Musica Bello a tutti ragazzi qui parla Foxound e bentornati nel canale The Walking Dead News Spoiler e altro e sono tornato ragazzi con questo video molto interessante riguardante Rick Perché a quanto pare ragazzi l'attore ovvero Andrew Lincoln in un'intervista ha rilevato O meglio ha parlato semplicemente di quello che ci aspetterà con Negan E accentuare questa sua caratteristica appunto del personaggio di Negan Ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare un mi piace Iscrivetevi se non è ancora fatto per non perdere i prossimi contenuti di The Walking Dead Mi raccomando ragazzi ci terremo giuntissimo le cella scelta e un mi piace perché è davvero molto importante E vi ringrazio per l'enorme supporto che sto ricevendo in questo ultimo periodo Inoltre vi ricordo di passare nella pagina Facebook e nel profilo Instagram Mi raccomando seguitemi su Instagram perché è davvero importante e posto tantissime foto Quindi se vi interessano appunto potete farlo cliccando il link in descrizione E adesso iniziamo subito con il video Ebbene si ragazzi questo è un articolo che ovviamente sto trattando questo video Ve lo lascio in descrizione Quindi se volete appunto dargli un'occhiata a quest'articolo in cui parlo in questo video Potete tranquillamente farlo Come ripeto trovate il link in descrizione Andrew Lincoln infatti dice che è una parte davvero grande e scritta in modo meraviglioso Lui è una parte molto importante dello show Questo personaggio Avevamo bisogno di un attore che potesse arrivare e prendere il tolo per le corna Portarlo avanti e renderlo davvero suo E certamente è quello che abbiamo fatto in questa stagione Infatti sappiamo già che questa stagione sarà emotivamente devastante per i fan della serie Il primo episodio inizierà continuando a raccontare quell'angosciante cliffhanger E secondo Lincoln non sappiamo quello che ci aspetta Credo che tutti abbiamo capito quello di cui quest'attore è capace fin da quell'ultimo episodio Ma vi assicuro che è solo l'inizio di quello che Jeffrey sta creando Ovviamente per Jeffrey si intende l'attore che interpreta Negan E' veramente impressionante ed è davvero divertente lavorare con lui Dice appunto Lincoln E continua dicendo E appunto Lincoln pensa anche perché per l'introduzione di Negan valga la pena di perdere un membro del cast Se il risultato è la sua presenza Senza il cattivo più cattivo di tutti non sarebbe lo stesso show Penso che abbia inserito una nuova vita terrificante nello show E non poteva accadere in un momento migliore E' una cosa straordinaria aspettare la settima stagione per rilevare il tizio più cattivo di tutti Quindi ragazzi quello che ci fa capire Rick è che da una parte anche lui preferisce appunto perdere un membro del cast Ovviamente si sa che questa cosa appunto lo danneggerà psicologicamente nel suo personaggio Però per quanto riguarda l'attore pensa ovviamente che questa cosa sia giusta Quella di far morire un personaggio nel cast perché serve a The Walking Dead Appunto per far capire che Negan sia una persona da non prendere sotto diciamo sotto gamba Come può averlo fatto Garrett di Terminus o per averlo fatto il governatore o qualunque altro villain Ragazzi perché siamo di fronte a un villain che è diverso dagli altri Ne sono sicuro perché comunque guardando questa cosa Guardando che Rick si è montato troppo la testa credendo di fare tutto Serio punto confrontato davanti a Negan E capire che tutto quello che ha fatto ragazzi non è servito a nulla E che il mondo è molto più pericoloso di quanto creda E quindi ragazzi questa cosa danneggerà psicologicamente Rick E penso che l'attore stesso sia contento da una parte Perché ovviamente lo show è proprio questo ragazzi Sappiamo che lo show è proprio la lotta ovviamente di non morti ma anche di persone vive E quindi è proprio bello il fatto che comunque se ci sia una vittima O più di vittime insomma da parte appunto di Negan Proprio per rendere lo show come veramente dovrebbe essere Come lo è sempre stato Quindi è davvero una cosa molto bella ragazzi quella che ha detto Rick Perché comunque perdere un membro del cast è una cosa brutta Però dallo stesso tempo darà uno show un altro peso E sicuramente Negan lo caratterizzerà molto appunto questa settima stagione Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo articolo e delle parole di Rick Ragazzi mi raccomando fatemi sapere la vostra opinione E nulla ragazzi spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo di lasciare un mi piace Iscrivetevi se non avete ancora fatto per non perdervi i prossimi contenuti di The Walking Dead Vi raccomando passate nelle vari social ovvero nel profilo Instagram e nella pagina Facebook Trovate il link nella descrizione E quindi nulla noi ci vediamo in un prossimo video Un saluto da Foxhawney The Walking Dead News Spoiler e altro Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.